L'onda del sentire. Quando il mio tormento si fa parola, quando si scioglie la mia vena in grido e quando il dubbio che mi porto in cuore in brivido mi corre per le vene, come su un'acqua piana, un'onda in cerchio, ecco, io sento la mia voce rompersi e poi morire. Commento? Aldo, perché dici io sento la mia voce rompersi e poi morire? Perché quando ti investe l'onda del sentire, la voce e le parole della mente si rompono e muoiono.